ciao e buongiorno buongiorno a tutti come va allora in questo video parliamo del un po ok delle tecniche usate da chi cambia network e che ti vuole sponsorizzare questo è un video molto importante facciamo delle riflessioni importanti perché è bene che certe cose si condividano e che le persone sappiano quali sono le tecniche quali sono le persone quali sono le dinamiche psicologiche che vengono usate da certe persone ok perché questo perché faccio questo argomento che sicuramente verrà visualizzato verrà condiviso utilizzate pure questo video da far vedere alle persone che alle persone che ci tenete allora innanzitutto posto che c'è libertà ok le persone rimangono c'è libertà è ok la libertà ognuno anch'io io so tre anni e mezzo che faccio il network prima ne facevo altri avevo delle ho avuto delle ragioni per cambiare piuttosto che magari uno non si sente bene magari non crede più nel pro nel progetto a lungo termine dell'azienda eccetera quindi ci possono essere tante considerazioni giuste per cambiare l'azienda ok per cambiare l'azienda per cambiare il gruppo uno non vede più il futuro a a lungo termine non vede più le cose che vuole vedere è giusto cambiare quando una persona cambia solitamente ok che cosa che cosa succede cosa metti in pratica per andare a reclutare le altre persone diverse utilizza diversi meccanismi psicologici molto spesso nella maggior parte dei casi se andate a guardare bene il meccanismo psicologico più utilizzato è quello del vittimismo ok del fare le vittime del dire sono stata trattata male mi hanno trattato male non hanno creduto in me mi hanno fatto delle cose che non si sa quali cose ok quindi vedrai che poi questa cosa sarà ripetuta costantemente in tutte le loro comunicazioni quindi sono persone che per giustificare i loro insuccessi per giustificare perché fa male dire non riesco eccetera quindi la prima cosa è il vittimismo la seconda cosa è fare il cross recruiting il cross recruiting è una pratica vietata da vietato comunque stigmatizzata fortemente dalla maggior parte di associazioni di categoria cross recruiting significa andare a provare a rubare gli incaricati delle persone con cui sei stata che ti hanno aiutato che tu hai avuto contatti quindi si va a cercare di fare una qualifica veloce andando a raccimolare ok andando a contattare tutte le persone che tu non sei venuta in contatto tramite il tuo lavoro ma tramite il lavoro di altri quindi ti stai approfittando ok del stai rubando il lavoro degli altri utilizzo proprio il termine rubare perché per me è quello stai andando a utilizzare il lavoro degli altri stai andando a denigrare una persona che ti ha dato tempo ti ha dato fiducia perché se ti ha sponsorizzato ha provato a formarti ha provato a chiamarti in qualche modo ti ha dedicato la cosa più preziosa che ha questa persona ti ha dedicato il tempo ti ha dedicato il suo tempo il tempo è vita il tempo è denaro ok quindi queste persone stanno andando a approfittarsi del lavoro non fatto da loro ok ma del lavoro fatto da altri ovviamente andando a instillare che cosa dubbi come vengono instillati i dubbi ragazzi con la genericità scusi signora sto parlando un attimo vanno instillati i dubbi con la generali con la generalità con la confusione cioè non si fanno mai osservazioni specifiche si fanno osservazioni generale ma hanno trattato male c'è mancanza di chiarezza allora la domanda quando vi dicono questo voi dovete chiedere come esattamente allora per risolvere i conflitti ok e per smascherare queste persone che tramite la confusione vogliono generare confusione dubbi nel vostro cervello la si opera con la specificità il metamodello la pnl spasi palla di specificità quindi m'hanno trattato male allora come esattamente ti hanno trattato male cosa esattamente ti hanno fatto ok quali sono i comportamenti specifici che ti sei sent che ti hanno fatto sentire in questo modo è andata a capire poi ti dicono ma di qua è molto più facile di qua è molto più facile allora ragazzi in america dicono che l'erba del vicino è sempre più verde fin quando non devi lavorare il giardino tu digli ma anche di là devi fare clienti anche di là devi fare clienti ah sì ma devi fare incaricati anche là ok bene quindi devi fare i clienti devi fare incaricati devi creare il devi creare il tuo team quindi devi essere anche là devi essere un leader per avere successo al network marketing no non c'è bisogno che c'hai leadership è facilissimo è semplicissimo è velocissimo vieni che con noi guadagnerai subito velocemente qua è semplice dammi fiducia dammi fiducia vedrai che qua è veramente ah quanto è semplice hanno un meccanismo ragazzi ma che è incredibile gli fai vedere vabbè a parte questo le persone a parte questo quindi persone che non sono degne di fiducia perché vanno a ok vanno a fare delle cose non degne di fiducia quindi non è che addirittura spesso prima di cambiare vanno a proporre la nuova attività alle persone con cui sono in contatto nella rete prima di cambiare ok vanno un attimo vanno a parlare a sondare il terreno per vedere se riescono a partire già con qualcosa vanno a apprendere ok prima oppure lo fanno anche dopo mandando appunto questo tipo di messaggi quando vengono tocchielli ma in che cosa esattamente di là è più bello ma in che cosa esattamente di là è più facile ma anche cosa esattamente i tuoi prodotti sono più miracolosi e allora sapete perché queste persone la verità perché queste persone non avranno mai successo mai no no queste che si comportano male non dico che chi cambia netto non deve avere mai successo ma per le persone che si comportano in questo modo non avranno mai successo perché il network è una questione di fiducia cioè se io con te noi vogliamo il network è la costruzione di relazione a lungo termine a lungo termine non rubare a raffarsi dieci minuti una settimana due settimane prendo quello che prendo prende raccolgo qualcosina ma poi non potrò mai costruire a lungo termine perché io non sono una persona che si comporta in modo da acquisire la fiducia degli altri cioè qua il network è questione di fiducia il business va alla velocità della fiducia le persone ragazzi seguono le persone di cui si possono fidare le persone di cui che mantengono la propria parola le persone che si comportano in modo etico comportarsi in modo etico vuol dire lavorare in modo cioè non andare a spazzolare cioè se il focus principale dell'altro network è spazzolare gli incaricati insoddisfatti degli altri network cosa che insomma va bene se uno è soddisfatto se il focus principale è questo ok quanto pensate che l'altra attività sia così facile perché il focus principale deve essere quello di fare clienti e fare incaricati persone che sono motivati a farlo andare a corteggiare di continuo il link è proprio perché poi insegnano a prendere di mira dei particolari network delle particolari strutture volta per volta è perché poi per andare da qualcuno bisogna sapere poi si inizia chiaramente a delegittimare la lì dice si inizia a parlare male era dire quelli quella persona questo difetto questo difetto questa persona è così è così ok bene ma questa persona queste persone la leadership certo che ci hanno difetti certo che ci hanno i punti deboli ok ma questi punti deboli hanno a che fare con il business hanno provato ad aiutarti chiedi quante volte hai parlato con queste persone quante per quante volte t'hanno dato dei consigli che tu non hai seguito quante volte hanno detto un po di pazienza che tu non hai avuto a me sinceramente tante persone che sono andate poi sono sono anche sono anche ritornate poi non c'è bisogno che uno torna non c'è problema anzi se qualcuno si trova bene eccetera ma il consiglio che vi do è quello di il network deve essere visto come qualcosa a lungo termine cioè si fanno si creano delle relazioni queste relazioni devono essere il più possibili forti il più possibili vere una relazione in cui si è i conflitti non vanno evitati se io e te c'è qualcosa che non non va bene non ci capiamo cerchiamo di capirci se tu sei un leader la da online la devi trattare come come fossero i tuoi figli e con i tuoi figli qualche volta devi avere anche qualche conversazione scomoda non evitate le conversazioni scomode fate le conversazioni scomode dite ognuno i vostri punti di vista diteli i vostri punti di vista parlatene perché l'obiettivo è quello 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 di costruire un qualcosa a lungo termine io ragazzi vi ho detto questo mi sembra che vi ho detto tutto e soprattutto ragazzi veramente il network è crearsi un qualcosa a lungo termine se volete un qualcosa a breve termine andate a vendere qualcosa andate a vendere qualcosa felici c'è il network come personal brand io non sto parlando di network come personal brand sto parlando di network come rapporto di fiducia fra un gruppo di persone un rapporto di fiducia fra un gruppo di persone se c'è fiducia io prima ad andare via ne parlo con la persona che mi ha aiutato dico guarda io sono andato di là ora ho valutato questo punto questo punto questo punto questo punto questo punto per me la è meglio per questa ragione questa ragione questa ragione io ti dico va bene fa per te non ti piace un settore te ne piace un altro questo settore un settore questo non lo digerisci ti piace un altro settore non ti piace la nutrizione mi piace la pulizia dalla casa mi piace il trucco e qual è il problema questo è il discorso ragazzi e solitamente queste persone sono persone almeno quelle che vedo che si comportano in questo modo che nella vita non ottengono mai niente appunto la ragione principale è che dicendo una cosa facendo un'altra comportando sono un'altra facendo dei sotterfugi non sono persone non possono costruire un gruppo un gruppo di persone come il concetto del network marketing è un qualcosa che si costruisce solo sulla fiducia non c'è nient'altro fiducia è nato a play ok ma può succedere anche non avere fiducia nella play in quel caso ci sono altre play in altre play c'è l'azienda l'azienda è un'azienda di fiducia luci se parlano male di chi li ha aiutati per il proprio tornaconto meglio che c'è assolutamente assolutamente ma non assolutamente meglio infatti i giardini funzionano i giardini funzionano così cioè cresce l'erba qualche erbaccia va tolta ma per così sapete io ho fatto questo video così sapete i meccanismi perché adesso c'è qualcuno ci sarà sempre ok ci sarà sempre come ci sono sempre le persone che fanno le cose che non devono fare continueranno a esistere diminuiranno ok però ci sono cose che ci sarà sempre adesso grazie a questo viso sapete io condividetelo con con le persone che lo ritenete opportuno lasciate i vostri commenti fate le vostre riflessioni e io vi auguro di avere successo in un network e di starci anni 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 anche perché chi rimane vi racconto questa poi vi lascio due anni fa il mio mentore paolo è andato alla six figure scene summit che che è l'incontro che è un corso di formazione per tutte le persone che guadagnano nel network oltre 100 mila dollari all'anno e c'erano tutte 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 queste persone tra cui anche tanti milionari nell'azienda di cui io faccio parte c'è il top earner in assoluto una persona Jeff robertica ha guadagnato oltre 100 milioni di dollari in carriera e tantissime persone che erano quella sala sono state nella sua organizzazione poi alcuni hanno cambiato e dicevano chi è chi è che ha fatto più di un milione in carriera e si alzavano io ne ho fatto uno io ne ho aveva guadagnato come lui che era rimasto sempre nella stessa azienda aveva superato di gran lunga tutti gli altri perché ogni volta che ci si sposta si lascia qualche pezzo ogni volta che si si sposta si perde un qualcosa perdi un po di autostima perdi un po di fiducia perdi comunque un qualcosa vedi infatti l'ho fatto a me tutti i giorni mi propongono altri netto perché succede così succede così e poi c'è chi lo propone in modo educato modo educato è sei aperto a vedere un qualcosa c'è c'è una persona che dice sì ok è aperto va bene se qualcuno dice no oppure iniziare a parlare male iniziare a fare confronti sul piano marketing che da me si guadagna di più una percentuale in più a tutto tutto sui social punto ok guadagni in più bene quali sono i tuoi prodotti quant'è la percentuale quant'è la percentuale sul totale che viene pagata siamo a presto a dire te pago 50 60 70 per cento del 50 per cento del valore commissionabile poi che prodotti stiamo dando è chiaro che comunque detto questo ragazzi ho fatto questo video mi auguro che vi sia stato d'aiuto non so se ci avete qualche qualche domanda bello su video è stato visto quando si parla di qualcosa negativo viene visto più persone ma questa non è una cosa negativa tanto lo sapete è qualcosa che la realtà è la realtà secondo me bisogna affrontarla perché no parlarne anche parlarne anche perché se vogliamo costruire una relazione a lungo termine nel tempo negli anni basato sulla fiducia è meglio parlarne che non parlarne e voglio bene ragazzi vi auguro una giornata strepitosa e vi vi ringrazio ciao ragazzi un grande abbraccio a tutti e una buona giornata ciao 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 ciao